Un saluto ai cittadini pisani da parte del Presidente del Consiglio. Informo la cittadinanza che nel mese di dicembre il Consiglio tornerà nella sua sede storica la Sala delle Baleari, rinnovata nei mobili e nella tecnologia. Sarà il fiore all'occhiello della città di Pisa. Nel Consiglio del 29, in occasione della festa della Toscana, possono partecipare tutti i cittadini e gli alunni di cinque classi. Il giorno successivo ci sarà una visita guidata nel Palazzo Leale da parte dei cittadini e degli alunni. Oggi informo che il Consiglio per la prima volta inizierà alle 14.30. In tale occasione il nostro Sindaco Michele Conti presenterà il programma di mandato del 2018-2023. Buon ascolto e un saluto a tutti. Grazie.